Ciao a tutti, buona giornata, lunedì della seconda settimana di quaresima. Ho in mano una caramella. Il dolce è dentro, però è protetto. Il dolce è protetto da questa carta. Mi piace pensare che la nostra vita è questa dentro ed è bellissima, è dolce, se la viviamo con fede e con amore. Però bisogna racchiuderla, proteggerla. Io questa mattina mi sono invitato e io invito voi a proteggere la nostra giornata con un po' di preghiera. Al mattino un Padre nostro, un Ave Maria, alla sera un Padre nostro, un Ave Maria, incartiamo la nostra giornata e rimarrà buona dentro per il Signore. Buona e dolce, incartata dalla protezione del Signore. Ciao a tutti, buona giornata.